Arriverà ad aprile su Sky e Now TV il thriller internazionale Diavoli, interpretato da Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, tratto dal bestseller di Guido Maria Brera. Diretto da Nick Harran e Ianna Michelini, il thriller ha come palcoscenico l'Olimpo della finanza mondiale ed è girato tra Roma e Londra. Interemente realizzato in lingua inglese, Diavoli è una storia di finanza, potere e inganni. Alessandro Borghi e Massimo Ruggero, spregiudicato e ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo. Patrick Dempsey e Dominic Morgan, fra gli uomini più potenti della finanza globale, mentore di Massimo e CEO della banca. Il profondo legame fra i due uomini rischierà di incrinarsi quando, a causa degli interessi nascosti di Dominic, Massimo si ritroverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale.